Ciao boys Ehm, no, non è solo Smurf oggi Io sono Smurf Perché sto giocando molto male sul main e poi volevo fare una challenge da bronzo a massa da D-Carry voglio vedere se riesco, è difficile come ruolo la D-Carry, però secondo me me la cavicchio soprattutto con alcuni D-Carry Adesso che giochiamo, boys? Potremmo pensare a un Twitch o una roba del genere Lucian potrei giocare bene Ho un better pattern secondo me con Lucian, andate a Zreal Bello Zreal, ma casa ce l'abbiamo che conto di scrivere casa, casa non ce l'ho manco Ah no, ce l'ho credo Lucian, non mi piace molto contro con tutta lìa, secondo me Lucian lo gioco bene, oh merda le rune Non mi va il PC Allora, che buildano questi? Buildano Krakenslayer Alcuni buildano le tanti Buildano veramente un sacco di cose diverse Play of the Runking com'è? Quanti tank hanno? Zero, ah no, hanno Alistar Yeah, Blade of the Runking com'è? E andiamo Miau 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 Volevi Grazie, ti avevi fatto perdere due Tre, adesso vado FK Non fare dash in avanti Ragazzi, diamante 3 è questo ragazzi E voi non riuscite a uscire dal silver Fatevi qualche domanda Fatevela E datevi qualche risposta L'ha giocata la polk Io ci buco Questa è sbagliata Non sai che non ne sono sicuro Potevi sicuramente farla meglio Però come timing ci stava Allora sicuramente Sbagliata il posizionamento Non mi va di giocare Allora pensi di poterlo Playare Però adesso il giro mi sta inventato Quella è 9 Ma lì è botte Ma perché l'ho rubata Un vero meia suo diamante 4 In tutto il suo splendore E poi perché devo andare a lui Che sta facendo cacare Questa è una bella domanda Andiamo a mid lane Allora sicuramente Allora sicuramente Quando siete vicino al muro Resitare l'animazione L'ha di luce Esattamente come L'acqua di Vayne Allora sicuramente E poi Allora sicuramente Handicare Persona Allora sicuramente Muore Peccato Faresse voi Lord Dominic Frozen Mullet? Non mi stai prendendo per il culo? Allora, io mi farei Frozen Mullet Oh, porca puttana, ragazzi Qui c'è del buono, eh? Ripeto Grande understanding di teamfight Grande posizionamento Lucian are your challenger Dai, dai Lucian è anche divertentissimo, secondo me Lucian forse è anche più divertente Che Ezreal Povera di Karin Muore Forse io vi devo salvare, sai? Nooo E perdiamo il game qua, eh? Nooo Nooo Buono male Povero Horn è giocata a pinball con la sua Karin Comunque sì, c'è proprio il buono L'unico problema, ragazzi È che non faccio una call nemmeno a pagarla Quello è il level up finale Allora, che stanno? Andiamo a guarda Sono tutti top lane Allora, come va? Allora, come va Grazie a tutti E andiamo Lucian please duo Che facciamo ragazzi facciamo duo con questa zona? Oh mi ha subito invitato Nel meno il tempo di final game Psicopatico Ce l'ha schifo al cazzo Anche secondo me era abbastanza brutta We love you Paolo Cannon We love you Paolo Cannon Ventudes Ventudes Support Gap Support Gap Mua Mua Ale Paolo Cannon E andiamo E andiamo E andiamo E andiamo